Tipo c'eravamo solo io, Ale e Lesio, che ha fatto graciare Joe e Michael Oggi siamo tutti se no? Si Joe arriva più tardi Venga domanda domanda, io in questi giorni non ho letto tanto il gruppo ma... Ale che cazzo ha fatto, ho comprato la webcam Ma porco dio, mette una gra... ah ma la PS camera Si, come deve avere secondo te Eh ma... cioè brutto, è brutto senza tipo riquadro, cioè... vabbè Ma secondo me lui potrebbe prendersi tranquillamente sia la legata che la webcam Però 200 euro di legata e poi non so quanto di... Ma che cazzo è il pass? Hanno giuto il pass? Ok Eh Fran, sai, è un gioco da cinque giorni Non gli dirò, è un fire proprio? Eh raga farò pagare, già ve lo dico È vero, ma è il tuo camello senza il montano? Poi dipende la mappa, e dipende la mappa, non in tutte le mappe devi più forza usare alcune mappe... Madonna, lei l'hai visto il diluvio Figa Madonna, è venuto giù tutto Figa ma pure adesso eh, sta deviando porco dio Ecco, di quando ti sto parlando io dell'altro ieri Ma no, no, pure ieri sera eh Non so da te però... No, qui da me si... Non mi chiamo tanto lontanese Eh fra, io non vivo piacente, sono fuori Eh sì, quanto fuori poi, cioè, dove è che abiti Un po' inzano Eh, ecco Eh, venti minuti da Piacenza, tipo Lontanissimo Eh, l'ha già invitata, se vuole entrare Perché eravate in ranked? Ale Ale, ale Ale Oh raga, facciamo il primo, non mi prego Fate una cazzo ai terroristi Eh, grazie al cazzo, non gioco da cinque giorni, in cazzo vuoi Mi rompe le palle, fra, ci fai perdere ancora più tempo Facciamo una libera Eh, vabbè Io con gentilezza lo chiedo, lui, boh Ma Gio? Madonna, vuoi... Ma è la quinta volta che lo chiedi Ma Gio? Ma quindi oggi siamo, ci siamo tutti? Ma Gio? Ma quindi oggi tutti? Ma viene Ma quindi Gio? Madonna Ma ogni tanto gli sa che sei autistico, tipo Guarda che non l'hai sempre lì, qua Eliminate tutti i nemici Eh, fra, la sua luce, hai detto, arrivo un attimo, non è che... Bello, Desio Ah, Ale non mi ha risposto Ecco, è ritornato Ma che ne vado? Non ti scusere a fare, raga Un squadra nel gioco Oddio Oddio Ragà Madonna Ma perché avete avviato ora anche due? Perché eravate in ora anche due? No, vinto o perso? Secondo te? Perso Guardati Dai, io sto facendo una caccia di terroristi Chi è che fa la... Chi è che fa l'obbio? Chi è che fa i te, l'obbio? Fra, sui in caccia Sai... Lo fanno abbinato tutti Vai, io non trovo l'ultimo Sì, va, lo faccio Mi trovo l'ultimo terrorista, raga Secondo te lo è l'ultimo terrorista? Stato, ti puzza, ti puzza No, non mi puzza Allora c'è il basso Sono stato fermo a me il solano Ammazzati Eh, ammazzati Assolita Questa funziona nel momento disponibile Non posso entrare a te, avevo Sì, devo invitare qualcun'altro Arrivo un secondo Ma perché hai lanciato il joystick? Che è successo Ale? Perché hai detto non ci sono Adesso di nuovo No, no, no Lui diceva questo È vero Dai, raga Ma le posizioni in tre Tutti round Un po' poi Ma no, stai tutto il tempo per me Poi quando lo stai Un momento in secondo Arrivano Rapperti con tutti C'è gente che non ha soldi Non hai soldi per quel joyce Eh, vabbè Tre account, tre platine È finita Cosa Oh, madonna No, vabbè Ma Giù quanti punti c'è? Ma In realtà Avrà Zero Ieri abbiamo fatto Quattro su quattro No Sì Sì Quattro su zero Eh, è vero Tre sul treno Ragazzi siete La sconvita, no? Mi sa che se la vinciamo Già non può giocare Cioè deve venire con l'altro Però che pane Non tutti i operatori Che cazzo è? Che cazzo è? Oh, madonna Non ci sono cinque giorni Tutti i platino Eh, vabbè Vabbè Desi, con Desi non ci giochi Ale era già platino Anch'io era già platino No, dai no Anche io una presidenza al platino Non è Ah Tu ero platino Cioè io sono arrivato tipo Vabbè Alla dodicesima partita Alla dodicesima partita Alla dodicesima partita Michael entra Io alla dodicesima partita Di questa stagione Era platino In questa canta No, porco dimmi Eh, vabbè Ripper Cosa vuoi? Attenta che vai contro il ventilatore Eh, vabbè Così Eh, ieri Ieri Due contro due Sentivi è questo anche perchè non ci sopravvivi no non ci puoi andare qua guarda così chi manca? manca Michael ha del giocatico come è andato alla fine è partita la ceci allora straffa che cazzo se impatti potevano un gioco cioè Ale ma tu quanti giustiche c'hai in quella casa non ho capito ce ne hai rotti due in meno di un mese che ritardato oh madonna ho rompito il gioco prende l'ancio prende l'ancio vai vai in l'ancio via me praticamente Michael era oruno ti mando una foto no ma perchè Michael ti ho detto ieri non ti ha contato la partita a noi si e loro tipo l'hanno fatti tutt'are ok lui era ora 1 quando hai smesso cioè quando hai giocato oh regà quando volete avviate abbiamo tutta la sera per avviare tranquilli tranquilli tu vuoi tranquilli vai che cazzo vuoi ma tu madre puttana dai avvio ecco diglielo se e vedi su i whatsapp aroni vai a vedere bravo se diglielo diglielo mettigli le cose in chiaro Metti la webcam, sembri un 08, porto Dio 08, 09 Ma è come tutte sorelle, ma dai Eh vabbè, sta mappa il cancro Eh no, sta mappa, sta mappa è la mia amica commuta Secondo me è un bel montagno Raga, ho bisogno di uno che mi va da sopra Uno che va sopra con me Ho fatto una doppia commute Se ti metti tu con la Jager Va bene, dai No, dai, dai Eh perché, devi prendere Scopi Ma in realtà come ho fatto Ma quindi Joe stasera viene oppure Sì, sì, arriva tra tipo dopo arrivo Scopi come nuove Sì, ha detto Raga poi vi avviso, vi avviso No, io raga, ogni giorno vi avviso alle 7 e massimo 8 Questa volta sono stato veramente professionale Oh, non mi carica il joystick, questo schifo, no No Non mi carica il joystick Raga, non li carica Ok, 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 ok Non li va il joystick Ormai fica Da buttare Manca solo che tipo Il crash o il caid, raga Il crash o il caid Non mi carica il caid Non mi carica il caid No, vabbè, vabbè Ma porca oddio Manca solo che ti esploni il ventilatore E... Tutto, caro Tutto Andiamo in armeria Un mute Un bandit No, pillo caid Prendo caid sa Non mi carica il mio Prendi il mute Che avevamo ieri Il maestro avevi preso Ragazzi un minuto Mettiamo sui nero Pro League ben d rarerai nero per risarmi va bene così va bene così il coso non è così anzi mettiamo lì voglio vederla o ho messo a mettere ciondolo se ti devi mettere in ufficio sopra sopra sei sei l'ufficio ormai raccoglietti ok io mi metto in dove è l'ufficio aspetta ragamore se volare volver con la sole nero io ragamore stupingo perché tipo 40 se vai a far mette i casi te vai a far la borsa dottor a me da inizio ci sono che così no no frappi è il piccolo santa sei capito si capito il caid li metti su su botola e su questo quadro metto io sui principali raga rinforzato dimmi tu metti di su botola rinforzo e metto su botola e su quello lungo cioè quello in fondo dispositivo in posizione ragamano va bene vado a fare le botole si è fatto botola è una una vai sto correndo sto correndo mancano 5 secondi sai lo liger c'è due di velocità ormai la squadra d'attacco ha trovato una bomba no 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 chi è il mute eh le ho letto il mute ma dimmelo cazzo eh non la battendo io l'ho visto dopo vai calmi regalo eh sento le urla come ieri calmi eh vieni qua 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 non basta sono dei coglioni ¡Hale porco dio! ma che cazzo vuoi Vale è il primo a chiedere silenzio Spagiro cams Dronano, dronano Stanno in dragone basso, lion Scale, scale di... Silenzio Così, di brandine Mi ha fatto boss, la mi sa Zitti, zitti, zitti Sì, qua Stanno in dragone basso Ricarica! Ti tengo dietro a sé Che cazzo sta in apriciare, non capisco Mi ha andronato, se mi ha andronato, coprimi dragone Atento dragone, se, attento dragone Mi ha andronato Mi ha andronato Mi arrivano a sé Dragone alto, attento Mi ha andronato di nuovo Sledge è entrato Sledge è entrato È nel corridoio Ash da me, Ash da me Fin due da me Finché Ash Ma muore! Sta sopra Sledge da ufficio, raga Uno di vita, raga Uno di vita Sledge Verticalizza Attento desi, attento desi che verticalizza Uno di vita Scala è qua Tenete, tenete Dall'altra parte, dalle porte Dalle porte, dalle porte, raga Dalle porte doppie Sto coglione si mette a verticalizzare Come uno di... Ragà, la mano Eh, desi Calmo, calmo Buttaci 4, desi Devi entrare per forza Vai, Michael Vai, Michael Tini dall'altra parte, Michael Tini dall'altra parte Bravi, bravi ragazzi Ma un'amico il porco di quanto è spaccato Bravi, bravi ragazzi Gravi ragazzi C'era quello di questo e non mi moriva Ma da una stagione, ma non mi moriva Ma stagione, ma non mi moriva Ma a me mi hanno chiuso in due, salvo Eh fra io, lì non ci potevo fare un cazzo Eh, fra io lì non ci potevo fare un cazzo Ti volevo ritare, però eh Non si è un po' Non si è un po' L'arma, la arma di marra Lo rincola per il cazzo Andiamo a Sironido vai No, l'MP, no, l'MP Eh sì, il Pulse Doc Chi prende uno Jäger, raga Obbligo Ehm Chi prende uno scudo Chi prende uno scudo È uno Jäger, raga Uno Jäger Se tu vuoi evitare uno scudo ti metti in goridoio Un vendito il posto del Pulse Un vendito il posto del Pulse, raga Un vendito il posto del Pulse, raga Mi spiace se gioco male, però raga Devo riprendere un po' Ma stai cittadino Era una sega prima Era una sega Eh parla È stato carriato fino a Platino Ma non vuol dire un caso Se gioco una pratica Se una pratica fai bene Poi per 30 ne fai male Che cazzo vuol dire Quanto non vuoi fare Eh fra me si Eh ci credo cazzo Giochi una sera di 5 no Eh, non è vero No Ma chi Ma si Ma si Ma si giocava sempre Tu lo dici Da prima volta Sto qua è fatto raga Sto qua è fatto raga Sto qua è fatto Alla ci vede che non c'è gli officer Che non faccio negativo con voi da 10 anni Eh beh la prossima partita è negativo come sempre L'avete fatto... ok Raga raga manca le rinforze però Dove sei tu? Arriva 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 arrivo Ce l'abbiamo raga Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Io ce l'ho Metti un gemmer a destra Ci prendo questi due Vento ste Eeeh no Ale Non li posso metti Gemmer ma ho già pensato E poi metti sulle porte Noi sobbiamo prendersi più muri Aspetta aspetta Eh la rotation qua da fare meglio Mettere un rinforzo qua magari Ce l'abbiamo? Dove dove? Dove? Ok Ragazzi zitti Fai la rotation meglio di si Boto la ditto Boto la ditto Non lo faccio rinforzare Ragazzi Tengo il giallo Tengo il corridoio giallo Ma vedi che ti incazzi Eh quando vuoi tu silenzio siamo tutti zitti Zitto una attenzione Attivazione Giorno Ma anche le gol ci possono fare Uno che tiene lungo a sinistra Tieni tu mi dici Zitto zitti ragazzi Come questo mi prendi i fire là dietro Dov'è? Vai a fare il bar Dronano? Ho sentito qua vicino eh Qua di fianco Mi sa che ufficio tipo Michael ci sta uno Mi tiri una cura Droni Droni Ti arrivi su quelle scale lì Eh entro il drone Quali quali scale quali scale Sul corridoio sul corridoio Sul corridoio Dritto per dritto Eh non non ci posso piccarlo io Eh tu mi dici Io cane Tirevi da dietro ragà Eh non posso ca Leggi in fondo Se svegli in fondo Tu hai qt ripieno Nritto Ti senti qua dietro Qua dietro La dire al13 che c'è già già ho Ehi 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 non urlare eh È girata eh Malصra all'essuale enzit ... hpi sledge Vanata Un hp sledge raga dove dove cosa amaro raga corrido io occhio ruine in rotation uno in bomba in bomba in bomba in bomba straiato spot fisso vuol bengate vuol bengarune vuol bengarune difensori eliminati missione fallita riproponiamo lì raga o dire che abbiamo fatto c'è l'unale gioca diversamente no si vabbè che cazzo prendo prendi il bandit e il bandit dobbiamo averci un bandit e un kaid per forza e c'è un muro kaid ma c'è un muro o un bandit o un kaid capito o comunque a voi sono tanto forte raga io più abbastardi così io vorrei saluto mi raccomando metteteli in forza l'italiani no dai ho fatto un attacco da seghe raga ok mi metti uno scudo abbiamo uno scudo raga no è quello che dicevo io se abbiamo uno scudo attivazione srotolo il filo spinato vado a fare rotation io devo fare rotation è meglio si è rinforzato secondo me boh dai vabbè non c'è non c'è rinforzo qua la vuoi più alta runy? te ci abbassatelo te ci abbassatelo non urli finca fuori raga principali raga già da scale gialle scale gialle mi sta già uno e tra i c'ho finca qua aspet zitti zitti non c'è è ancora basso il dronano è fatta finca bravo 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 il dronano due droni bloccati oh sledge in bar oh è entrato sledge da barra ok non so mi ti da la nade di prefire con la nade prefire con la nade prefire con la nade prefire com'è gialle raga? fatti curare non so sono saliti da gialle chi è che devo curare? eh io eh riesci da gialle no no hanno già preso gialle ragazzi si è tornata a mia sinistra se non va qualcuno può a cam raga per favore lunese poi con una cura un ufficio una zona ufficio levati levati dai raga è sui giallo e lune se vado al buco te lo picchi te l'ho detto te l'ho detto non vado al buco eh no è dietro quella cosa al terzo l'ultimo nemico aspettate c'è le cammi fermi erano in corrido che giallo bar in bar in bar non impiçare vengo qua fisso eh in bar tengo il corridoio a destra tengo il corridoio a destra e hai vinto piccata voi piccata voi raga c'è in sinistra bello la testa è eliminata nessuna è completata è easy adesso ti scopo la mano non è la mano anche a te vabbè eh prendiamo sledge dai andiamo di maverick ce l'abbiamo giusto thermite ciò che ce l'hanno tolto prendiamo un nomad e un capitao non è vero abbiamo le ok abbiamo le cose quindi prendi le stordenti ok abbiamo quattro granate 6 stordenti dobbiamo individuare una bomba lascio il drone in barili almeno vediamo se spawn killano nessuno anzi forse nomad può venire sotto con me a uno porto al film da sito alunità sotto commento su nox rosa ma se c'è lontano un po' il microfono che c'è tanto vicino ma come è come possibile tanto vicino non è alto il volume tanto vicino io ora io sento qui no 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 da barili no da barili no no da barili no no da barili no si metti uno sul flank di barili e andiamo su drone pronto a partire quando volete possiamo trappare il gioco buono, buono ragazzo metti dal volo e vieni qua inizio ad esempio allora brandini è pulito corrido io a lungo a sinistra è pulito un solo gioco sicuro è pulito 7000 è pulito corrido resta pulito ok mar pulito è tutto pulito qua vengono verso gialle vengono visto, vengono visto avete bisogno di bridge raga avete bisogno di una granata te lo sepa ci hanno visto runy ok 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 calmo dai però raga dai michael le stordenti 2 ok non ci sono ok vai vai vieni a verticalizzare vieni a verticalizzare e invece ci sono rai che cazzo vuol dire ma tiralo da vicino se devi coprire bene aspetta prendo drago vai 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 chi c'è destra chi c'è destra preso 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 l'esterno nooo raga 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 non ce l'abbiamo raga no eh no abbiamo bisogno del maverick raga andate sul maverick andate sul maverick no no non c'è sotto non c'è sotto se non l'avamo mi si triccava raga potevi bridge a col in corridoio eh no non riesco a girare mi sa che è solito angolo daisi non si tricca sto muro di merda forse è lì stefan girate il corridoio girate il corridoio girate il corridoio dall'altra parte dov'è desidera vedo c'è il volo al volo girate il volo girate il volo girate il volo girate il volo no 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 girate anche voi girate anche voi in alto sinistra ok vai raga raga vi ho detto di girare raga hai trovato una bomba ah madonna stanno tutti in dietro ronno ragazzo chi è il servo? 12 secondi no raga però dovete ascoltarmi raga dovete un po' ascoltarmi eh madonna raga vi ho chiamato il giro che si poteva bricciare dall'altra parte eravate ancora lì col maverick ma ecco io non so come cazzo hai tirato il sardente ma boff ho fatto il giacal vado da sotto con zof no aspe si vado da sotto andiamo da dietro raga andiamo da dietro intermite vai doppio bridge maverick ragazzi l'abbiamo maverick maverick vai di maverick andete dietro io ste e michael andiamo da dietro vale prendi il bar doppio bridge facciamo così li obblighiamo a spostarsi dovete usare il drone per trovare una bomba stanno droga stanno droga obiettivo è difficile ma mamma almeno quando lo giochiamo noi ci asfalto attenzione il drone ha trovato una bomba qui è buono il doppio bridge raga qui apriamo il culo d'addio proprio eh ma è molto grande sta mappa non è così semplice secondo me dobbiamo passare da dove mi servirebbe un brucio sopra raga auto scontri il secondo bridge di trono passiamo da lì e andiamo a bruciare auto io riesco a fare qualche buco da sopra eh 5 secondi all'interno e ci si trovino più cazzo col vertical ehm runy eh ne ho due se me ne fai uno dove ti dico io riusciamo a prenderci l'angolo morto ah andiamo sopra andiamo in relax andiamo in relax andiamo in sopra qui passiamo tutti da sopra e qua l'unico che posso dobbriciare è il muro in lungo eh si che il murino è il murino si però dobbiamo prendere da quel pompa esterno però non è un complicato abricciarlo quel muro raga ma non basta via un bar no mi cazzo vai a far un bar mi chiede prendiamo pure un bar no no vabbè se vuoi il superiore è pulito bar clear bar clear randine è pulito ah si ronido drono pulito e si ronido attesa com'è noi non sto dronando da voi raga io non sto dronando da voi ma si è dronato un gandine scusa un secondo un secondo un ufficio pulito si ronido l'hai trovato tu bagno è pulito vabbè questo va a clear ah è tutto pulito sopra ragazzi tutto pulito metti i cosi per i flank ii dove stai verticalizzando? chi è che ha messo quella carica? ho rotto la botola in trono ma è inutile se trono com'è? dove vuoi il coso? dove vuoi il coso? eh qua 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 veloce vai c'è un in trono preso di qua non ci guarda ha quitato per non darmi la kill fia di puttana che non ti ricordo adesso non riesce a farmi il bandit? qua io te li faccio io te ne faccio uno quasi uno deve scendere dovete scendere con ale eh non può andare da solo guarda 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 ti copro il flank da gialle no raga ma ah infatti raga non può andare da solo dove? eh da porta l'ho fatta l'ho fatta l'ho fatta l'ho fatta ho sfragato ok Ale ti metto un drone sul flank qua tutta a sinistra le bandit cosa? bravo bravo va il kill in altra bomba raga disinnescatore è di nuovo nostro hai trovato una fetta non hai più il disinnescatore com'è com'è? potete andare al plant eh? si si plant in a plant in a plant in a vai vai plant nascosti però eh in bagno frost bello ne so va il kill in altra bomba la squadra d'attacco è infine quella puttana guitta per non darmi la kill magari non rientra è già rientrata era di merda dai da parte tutti i superatori era per attaccare dall'altra parte cioè comunque questa cosa la devono pacciare anche se qui ti non ti dà la kill eh perchè se han patchato quella delle interrogazioni perchè non patchano questa della kill scusa eh non cambiamo un cazzo ma quelli di prima raga che erano per attaccare sopra vai direi sale eeeh tornato eeeh la figa rune madonna sembra boh ah ok e che riattacca il cazzo eh no non lo so ogni tanto si fa di tutti eeeh sta in asilo asilo dove stanno? asilo asilo c'è ok ma si sente eh quindi assi vado da bar si si c'è il pulso sotto dovrei vado io da sotto l'ultima Jäger l'ultima Jäger spavano avuto scontro il maverick e il no maverick lo dirò nei pian piano mi spawn sponkill da bar sponkill da bar o mettere la gamba al kill chi se lo farla? non lo so non so chi è secondo me è la cam fra è Jäger l'ultima l'ultima Jäger non escare la bomba mi briccino ti la bota arrivo allora porta bagno si porta bagno porta barre rotta c'è falchi in bar falchi in bar merda aspetta me non ce l'ho per il c4 ok c4 c4 il bottino libero comandi 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 aspetta ufficio libero alberga calmi 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 il pulsotto qua non riesce un drone in bar veloce che non ce l'ho no fra no fra il pulsante le fa un drone in bar veloce ma perché è loro che stanno dall'altra parte un drone in bar eh marlotti tutti e due ho capito che va ho capito che va eh fra io ho uno sotto non posso mettere il drone puoi palpire qui è dentro o fuori bar? è fuori non c'è nessuno dentro bar è dentro veloce 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 ok ragazzi ci sono ci sono attruttato devo scendere ancora io beh raga ho bricciato ok ho preso il pulsante bravo bravo ok salgo gialle salgo gialle raga prendo gialle prendo gialle drone in obiettivo raga drone in obiettivo vai vai calmi calmi dove? flank flank raga no ok ok preso preso hai già bricciato qua? eh ragazzi diffuser da noi diffuser da noi portalo da noi stai il diffuser riesci? madonna Ale eh madonna eh franzo volgo il camioncats mi staspera pure da dire oh franzo te smiri figai sempre rascuso ah te smiri era madonna era madonna